Ciglia finte Non può mancare, con questa state veramente sicure che le vostre ciglia finte vi durino tutto il giorno senza dovervi preoccupare di guardarvi con lo specchietto se sono ancora lì o se ne sono andate in giro. Un paio di forbicine perché le ciglia finte non sono della vostra lunghezza quando le acquistate ma bensì sono lunghe in modo da star bene a tutti i tipi di occhi quindi dovete andare a misurare e tagliare la vostra lunghezza. Un consiglio per quando iniziate a mettere le ciglia finte, fate una riga nera che sia di eyeliner, di matito o di ombretto sfumato ma in questo modo anche se non andate a posizionare le vostre ciglia finte proprio all'attaccatura di quelle naturali, Lo spazio che c'è tra queste due si mimetizzerà e quindi non vedrete lo stacco tra quelle finte e quelle naturali. Poi mano a mano andando avanti riuscirete a metterle anche senza nessuna riga ma ad attaccarle bene a quelle vostre naturali. Le ciglia finte in commercio ne esistono veramente di tutti i tipi, colori, forme e lunghezze, da quelle più naturali che potete portare tranquillamente tutti i giorni per un look anche più tranquillo. Poi ci sono quelle più lunghe e più folte, queste sono più corte nell'angolo interno e sempre più lunghe verso l'esterno quindi vi aiuterà ad allungare l'occhio. Ci sono quelle con le applicazioni sopra, come vedete queste qui hanno dei glitterini nell'angolo esterno, sono carinissime però ovviamente da portare tutti i giorni non sono proprio l'ideale. Poi ci sono quelle a ciuffetti e anche di queste ne esistono di varie lunghezze, corte medie e lunghe, quelle medie diciamo sono quelle che utilizzo di più. Io non le utilizzo tanto su me stessa perché quando voglio le ciglia finte metto quelle un pochino più piene, queste le utilizzo più che altro per lavoro. E poi ci sono quelle più estreme, quindi come vedete queste sono lunghissime, non sono portabilissime però per creare qualche look carino, un po' più fashion, sono carine. Ne esistono anche colorate, queste se ne sono andate un po' in giro nella scatolina però sono fatte così. Quindi sono più corte nell'angolo interno, sempre più lunghe verso fuori, anche queste sono più che altro per divertirsi, non per andarci in giro. E poi ci sono carinissime, queste qui che ho preso al Cosmo Prof, le potete ordinare anche su internet. Sono le ciglia di cartone, sono fatte di carta cioè erano tutte intere, ci sono di diverse forme. Diverse forme, queste hanno tutti i fiocchettini o poi le ho tagliate in pezzettini perché mi piace applicarle solo nell'angolo esterno per ricreare qualche look carino. Ovviamente le metto molto molto raramente. Queste qui ad esempio avevano la farfallina e poi anche la testa di un cervo, però ci sono veramente con i ranni, con il pavone, con dei palazzi, qui sembrano. Sono di tantissime forme. Una cosa importantissima che ci tengo a dirvi, non vi demoralizzate se la prima volta, la seconda, la terza, la quarta, la quinta volta non riuscite a metterle perché ci vuole un pochino per prendere la mano e imparare come applicarle. Io spero tanto in questo video di darvi dei consigli molto utili perché io prima di imparare ho guardato davvero tantissimi video e ci ho messo un bel po' ad imparare come applicarle. Vi consiglio di acquistare le ciglia quelle con la banda trasparente perché sono quelle più confortevoli da portare. Sono più morbide, invece se la banda è molto spessa e nera è molto rigida. Quindi a parte che gli angoli tendono a staccarsi prima perché ovviamente c'è più tensione su tutta la banda quindi la ciglia finta non rimane piegata così ma essendo molto rigida tende a riaprirsi e a staccarsi dagli angoli. Invece quelle trasparenti sono molto morbide, molto confortevoli e poi si mascherano bene con quelle naturali. Quando non sapete ancora metterle io vi consiglio di acquistare quelle più economiche quindi non andate a comprare subito quelle costosissime perché molto probabilmente le prime ciglia, anche le prime due ciglia finte che comprerete le butterete via perché le rovinate a forza di provarle. Non vi consiglio di acquistare quelle di Essence perché sì sono molto economiche però la ciglia finta non mantiene la forma a semicerchio che deve avere per adattarsi bene all'occhio ma tende un pochino a girarsi verso l'esterno quindi sono molto più difficili di applicare sono molto più difficili, non riesco a parlare in questo video sono molto più difficili da applicare rispetto magari a queste dell'ardelle. Infatti io vi stra 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 consiglio le ciglia delle Ardelle non costano molto perché vengono intorno ai 5-6 euro però ne vale veramente la pena poi una volta che avete imparato a metterle se le trattate bene vi durano tantissimo molto probabilmente questo sarà un video... Uff, c'ho ragni sulla mia macchina fotografica Odio i ragni Molto probabilmente questo sarà un video lunghissimo ma spero di darvi tutte le informazioni che vi servono per imparare a metterle spero davvero di avervi detto tutto quanto vi lascio all'applicazione delle ciglia finte e poi dopo l'applicazione troverete la manutenzione quindi come trattarle e come pulirle magari se vi è utile vi consiglio di mettere le ciglia finte proprio mentre vedete il video così non vi dimenticate tutti i passaggi che dovete seguire e niente, io vi lascio alla realizzazione come prima cosa vado a legare i capelli perché fa caldissimo e dopo metto il mascara diciamo che solitamente il mascara lo metto quasi sempre prima poi ovviamente cippando voglio un effetto molto molto più carico lo metto dopo così lo metto anche sulle ciglia finte viene tutto molto più voluminoso il mascara ne metto veramente pochissimo cerco di non fare grumi ma piuttosto di pettinare bene le ciglia perché appunto non mi serve per dare né volume né lunghezza ma soltanto per scurire e diciamo colorare le mie ciglia in modo che si confondano bene con quelle finte se le vostre ciglia naturali sono proprio dritte verso il basso vi consiglio di dargli una leggera curvatura con il piegaciglia mi raccomando non troppo perché non vogliamo che le nostre ciglia naturali spuntino fuori sopra quelle finte quindi se usate il piegaciglia usatelo con parsimonia quando mettete le ciglia finte il mascara lo metto dopo soprattutto quando le ciglia sono molto molto folte così riesco a confondere meglio il pelo naturale con quello finto lo spingo proprio dentro le ciglia finte prima di applicare subito le ciglia finte lascio asciugare leggermente il mascara altrimenti quando vado qui mi sporco di nero da tutte le parti vi faccio vedere come si applicano prima quelle a banda intera e io utilizzo queste qui che sono molto naturali come vedete io queste già le ho usate qualche volta però vi faccio vedere proprio quello che dovete fare quando le trovate nuove nella scatolina le staccate da qui dovete misurare che la lunghezza sia quella giusta perché le ciglia finte ovviamente non ci sono di diverse lunghezze in questo senso orizzontalmente ma sono fatte per star bene a tutte le lunghezze di occhio quindi quello che dovete fare è misurarle dall'angolo interno verso quello esterno e tagliare il pezzettino in più nell'angolo esterno perché appunto qui all'inizio sono leggermente più corte quindi partendo più corte risultano più naturali se tagliamo questo pezzo iniziale partono subito lunghe e sono abbastanza brutte e scomode da portare allora prendiamo le nostre ciglia finte le posizioniamo per vedere quanto dobbiamo tagliarle prendiamo la misura prendiamo un paio di forbicine e tagliamo il pezzettino in più cercate di non tagliarlo per... non so come farlo... ecco cercate di non tagliarlo per orizzontale ma tagliatelo leggermente per obbligo in modo che poi la banda una volta applicata segua bene la vostra forma dell'occhio in queste qui che sono molto naturali il pezzettino che ho tagliato lo ho rincollato sempre con la gola per ciglia finte nella parte finale in modo che la parte finale abbia leggermente più volume rispetto a quella iniziale prima di applicare la ciglia finta visto che è nuova e la banda sarà leggermente rigida faccio così proprio la vado a piegare leggermente in modo che sia più confortevole una volta che ce l'abbiamo sull'occhio quindi la piego, la piego, la piego circa un minutino e poi siamo pronti per applicarla la colla che vi consiglio è sicuramente la colla duo con questa andate sicure che la ciglia finta vi regga per tutto il giorno quelle che trovate all'interno della scatolina vi consiglio di buttarle questa è nel formato gigante trovate anche quella più piccolina ovviamente se non ci lavorate questo formato qui non vi serve è importantissimo mettere la giusta quantità di colla perché all'inizio uno dei motivi per cui non riuscivo ad applicare bene la ciglia finta era perché mettevo la colla non uniformemente su tutta la banda quindi facevo dei grumi di colla in alcune zone piuttosto che altre quindi dove ce n'era poca si asciugava velocissimamente e dove ce n'era tanta si asciugava molto più lentamente quindi quando lo andavo a mettere dove ce n'era poca era già asciutta e non attaccava più dove ce n'era tanta non era ancora appiccicosa e non attaccava proprio quindi la ciglia la posizionavo sull'occhio e poi se ne andava in giro da tutte le parti faccio uscire una bollicina di colla e piano piano la stendo su tutta la banda della ciglia io spero che riuscite a vederlo mi raccomando mettetela bene anche sugli angoli perché sono la parte che tende a staccarsi prima ovviamente tendono a staccarsi prima gli angoli perché c'è più tensione e soprattutto se non siete abituate magari strizzate l'occhio tendete a toccarle sempre per sentire se sono ancora su quando non siete abituate a portarle ovviamente gli angoli sono quelli che cedono prima comunque adesso abbiamo messo una bella riga di colla su tutta la banda della ciglia finta adesso dobbiamo aspettare che la colla si asciughi leggermente perché se la andiamo a posizionare in questo momento la colla non sarà ancora appiccicosa e quindi la ciglia finta non sarà dove la posizioniamo noi ma si staccherà subito dall'attaccatura delle ciglia naturali quindi dobbiamo aspettare che la colla diventi leggermente trasparente in modo che sia appiccicosa così quando la posizioniamo sta lì ferma dove la mettiamo noi e poi la colla finirà di asciugarsi sull'occhio mentre aspetto che la colla si asciughi leggermente vi dico anche come posizionare lo specchio quando vi applicate le ciglia finte io vi consiglio di non metterlo proprio orizzontale cioè dritto verso di voi perché non riuscite a chiudere bene l'occhio ma piuttosto vi consiglio di inclinarlo verso l'alto così quando voi andate ad applicare la ciglia finta tenete il viso dritto e rivolgete l'occhio verso il basso e avete più accesso all'attaccatura delle ciglia con le pinzette so che è difficile da spiegare io spero che sia abbastanza chiaro la colla è diventata abbastanza appiccicosa prendo la ciglia con la pinzetta verso il centro come prima vi ho detto lo specchio è rivolto verso l'alto così ho più accesso all'attaccatura delle ciglia faccio questo movimento qui quindi lo posiziono, metto la pinzetta sopra le ciglia e poi vado all'attaccatura e la tengo così per qualche secondo se volete che non riuscite a tenere l'occhio aperto magari lo chiudete però spingete la ciglia sulla attaccatura delle vostre ciglia naturali e così abbiamo attaccato il centro delle nostre ciglia finte adesso andiamo ad attaccare i due angoli io attacco prima quello interno mi raccomando di non far andare le vostre ciglia naturali piegate sotto a quelle ciglia finte sotto a quelle finte e poi vado ad attaccare anche l'angolo esterno ovviamente potete aiutarvi anche con le mani se vi siete accorti che avete applicato magari la banda delle ciglia finte troppo lontana da quelle naturali basta prendere le pinzette quando la colla è ancora leggermente bagnata e strizzare le vostre ciglia naturali con quelle finte queste sono molto molto naturali non le uso quasi mai, le utilizzavo più all'inizio quando portavo per le prime volte le ciglia finte adesso metto quelle molto più piene se vedete dei puntini bianchi è perché la colla deve ancora asciugarsi poi quando si asciuga diventa completamente trasparente però quello che faccio io quando applico le ciglia finte è riprendo il mio eyeliner e lo ripasso sopra in modo che si tolga anche il lucido della colla di ciglia finte e l'effetto sembra ancora più naturale per rimuoverle basta prendere un angolo e tirarlo delicatamente quindi prendo l'angolo interno e delicatamente lo tiro verso l'esterno potete anche fare il contrario come vi trovate più comode voi come vi stavo spiegando prima sulla banda intera di ciglia finte si crea molta tensione sui due angoli quindi anche attaccandole molto bene portandole per tantissime ore gli angoli tendono comunque a staccarsi leggermente quindi ho scoperto un trucchettino per quando non lo so vado fuori a lavorare tutto il giorno però voglio portare le ciglia finte voglio comunque essere a posto e non voglio preoccuparmi di controllare se devo riattaccare gli angoli praticamente non faccio altro che tagliare a metà la banda di ciglia finte cioè queste sarebbero quelle intere quindi sono più corte verso l'interno più lunghe verso l'esterno ovviamente vedete che taglio sempre il pezzettino in più e poi la banda intera la ritaglio nuovamente a metà e vado ad attaccare due pezzettini in modo separato questo oltre che ad essere più facile e più veloce per attaccarle non vi da la sensazione è che vi si stacchino i due angoli e praticamente dopo 5 minuti che ce l'avete su vi dimenticate completamente di avercele vedete che questo è il pezzettino esterno della ciglia finta e vado ad attaccare prima questo qui nell'angolo esterno e poi il pezzettino più corto nell'angolo interno quando ce l'avete su è come avere la banda intera però nessuno se ne accorge e voi state molto più comode e tranquille inoltre quello che vi consiglio di fare se non avete se volete solo allungare un pochino lo sguardo e di attaccare solo un pezzettino nell'angolo esterno quindi stessa cosa di prima vado a mettere la colla in questo modo dovete aspettare anche meno che la colla si asciughi perché anche se non è appiccicosa al massimo come deve esserlo per la banda intera riuscite tranquillamente ad applicare il pezzettino soltanto piego lo specchio e vado ad attaccare il pezzettino nell'angolo esterno lo tengo fermo qualche secondo sempre per stare tranquilla che si appiccichi bene e poi magari mi aiuto anche con le dita a spingere proprio la ciglia finta verso l'attaccatura di quelle naturali e come vedete con un secondo ho applicato il pezzettino faccio la stessa cosa con il pezzettino dell'angolo interno secondo me questo è un modo anche più semplice di imparare a mettere le ciglia finte piuttosto che imparare a mettere tutta la banda intera quindi magari prendetevi un paio di ciglia finte tagliatele a metà e provate a metterle così l'unica cosa per cui dovete fare attenzione quando mettete le ciglia così è che ovviamente non dovete mettere distaccati i due pezzettini se no si vede che sono tagliate a metà facile facile adesso metto anche l'altra e poi ci vediamo ok allora adesso che la colla si è più o meno asciugata vado a ripassare l'eyeliner con un pennellino molto sottile proprio all'attaccatura delle ciglia finte così andiamo a mascherare completamente la colla e l'effetto sarà molto più naturale quindi prendo il pennellino con cui ho applicato l'eyeliner e vado proprio all'attaccatura delle ciglia finte cioè ci vado quasi sopra potete farlo tranquillamente anche con una matita con un eyeliner in penna come vi trovate meglio però è una cosa che vi consiglio di fare altrimenti si vede proprio lucido della colla o molte volte in alcuni punti diventa si asciuga ma rimane comunque un po' bianchina poi se non avete ancora messo il mascara perché volevate metterlo dopo questo è il momento di metterlo mi raccomando aspettate bene che la colla si asciughi e non andate a tirare con lo scopolino non fate in questo modo perché altrimenti vi portate via anche le ciglia finte ma cercate quasi di spingere con delicatezza allora queste sono le ciglia finte che io metto da parte quando tolgo le vado a pulire in realtà quando poi le riapplico vi dico la verità io non le pulisco proprio tutte le volte che le metto ma più o meno mi regolo quando sono troppo piena di mascara quindi queste sono nella scatolina ne prendo una come prima cosa vado a levare la colla che sta all'attaccatura della banda delle ciglia la tiro via semplicemente con le dita questo dovete farlo ogni volta che le riapplicate perché altrimenti si crea un accumulo di colla su tutta la banda che poi non vi fa aderire bene quelle finte a quelle vere ah mi sono dimenticata di dirvi una cosa credo nel video le ciglia finte non vanno attaccate su quelle vere ma vanno attaccate all'attaccatura delle ciglia vere sulla pelle mi raccomando altrimenti quando le andate a tirare via quelle si attaccano alle ciglia e diventa un po' doloroso anche staccarle allora ovviamente questo procedimento è molto meglio se lo fate in bagno io qui per isolare ho preso una di quelle cosine che si mettono nel surgelatore con sopra un pezzettino di scottex altrimenti faccio un macello e metto la ciglia finta sopra un dischetto di cotone prendo uno struccante questo qui l'avete visto anche nel video dei preferiti low cost lo acquisto al Lidl mi aiuto con un cotton fioc metto un po' di struccante sul cotton fioc e lo passo sulle ciglia finte questo procedimento dovete farlo comunque molto delicatamente altrimenti andiamo a rovinare le ciglia finte lo lascio comunque agire per un po' di tempo così si scioglie bene tutto il mascara e piano piano con il cotton fioc mi aiuto a tirare via tutto il mascara tirate i peli nel verso dei peli quindi non al contrario non per così non per così ma nel verso dei peli come sto facendo io come vedete il cotton fioc è comunque nero se vedete che il mascara in alcuni punti non viene proprio via bagnate le ciglia finte in una ciotolina d'acqua direttamente sotto al getto del rubinetto e continuate a tirare fino a che le ciglia non diventino belle pulite quando avete finito se c'è un po' di struccante ancora sulle ciglia finte sciacquatele sotto l'acqua o in una ciotolina e le mettete ad asciugare su un pezzettino di carta queste sono le ciglia finte pulite ovviamente dopo un po' di tempo se vedete che si perdono troppi peli sulla banda magari si fa qualche buchetto oppure vedete che le ciglia non mantengono più la forma che avevano all'inizio significa che è ora di buttarle perché le avete insomma utilizzate troppo e quindi dovete sostituirle però ovviamente fino a che riuscite a mantenerle bene potete riutilizzarle quante volte volete queste sono le nostre ciglia finte pulite quindi non ci resta altro che andarle a rimettere nella scatolina e sono pronte per il prossimo utilizzo ragazzi il video è terminato qui io spero davvero che questo video vi sia stato utile perché ne ho guardati centinaia prima di imparare a mettere le ciglia finte qualsiasi domanda o curiosità o qualcosa che ho spiegato male o che non avete capito o che non ho detto nel video chiedetemelo con un commentino qui sotto vi risponderò al più presto se il video vi è piaciuto e vi è stato utile non vi dimenticate di lasciare un mi piace o di iscrivervi al canale per non perdervi nessun tutorial e noi ci vediamo al prossimo video ciao